Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Roblox Broken Bones o una cosa del genere Allora ragazzoli, io ho giocato un pochino off camera, infatti vedete che abbiamo un bortello di soldi, abbiamo un miliardo, un milione di cose, che cazzo E siamo arrivati a livello 13, attualmente in classifica siamo messi abbastanza bene, sì, sì, il massimo è a livello 28 e noi siamo a metà supera della classifica Ragazzoli, cosa facciamo in questo video? Allora, intanto ci lanciamo Allora, intanto ci lanciamo così pigliamo altri soldi, altri bei soldini, io ancora non ho capito bene come farmi proprio male, ma proprio male che uno dice mi so fatto proprio male Mi so sforacellato tutto, però pigliamo botte così come se non ci fossero domani Aspetta, aspetta, aspetta che questa la prendo bene, ok, va bene così, vai che prendo questa roccia, vai 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 facciata precisa Bella, questa mi è piaciuta, questa secondo me ha fatto abbastanza bene Allora ragazzoli, siamo a un milione e trecento Allora, abbiamo fatto 21.000 dollari Obiettivo di oggi, allora ragazzoli, noi siamo a livello 6, io volevo arrivare a comprare a livello 7 Che così saliamo ancora di altezza di questa monto zanguilla Se non ci riusciamo a fare ancora più male Io, off camera, avevo fatto soldini e avevo comprato anche il primo livello di Sunken City Solamente il regalo che fa schifo, io ve lo faccio vedere, ma è proprio un salto inutile Perché proprio siamo bassissimi, siamo a mezzo a dei palazzi Proprio ecco, vi faccio vedere che gran cagata che ho fatto, ho speso soldi proprio in maniera stupida Sì, prendiamo un po' di botte, ma niente di particolare Finiamo sì, là sotto, quando ci finisce bene Perché non mi piace più di tanto Quindi preferisco andare avanti con la prima mappa Che se non è, riusciamo a farci ancora più male Perché saliamo ancora di altezza Infatti abbiamo fatto 16.000 dollari 16 dollari, quello che cavolo No, play a game, ho sbagliato Porca miseria Mi devo ributtare di nuovo, ragazzi Voi che mi raccontate? Tutto bene, ragazzi? Ecco, perfetto Questo salto ha fatto proprio schifo Vi fa capire quanto mi piace questa mappa Per questo salto mi fa cacare Ok, allora, facciamo un salto Forse è già come soldi No, come soldi ci siamo quasi, ma non proprio Ok, sei un attimo intontato Ok, siamo a 1.035.000 Siamo a 1.033.000 Quindi facciamo un altro bellissimo saltino Aspettate, cosa sta succedendo? Io ho sbagliato di nuovo Eh, forse ce l'abbiamo fatta, ragazzoni Ok, ritorniamo qua Prendiamo questa Ancora non possiamo comprare il Settimo livello Prendiamo questa E ripartiamo da qua Vai, 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 vai Ma voglio sfracellarmi come poco al mondo Allora, detto questo Noi Cosa stanno facendo? Perché questa? Eh, vabbè, non facciamoci domande Voliamo via verso l'infinito e oltre, ragazzoli Sfracellandoci pesantemente Allora, io ancora non ho grandissimi aiuti Però ho i fireworks Che ho visto che sono Li possiamo attivare Bello, questo ci ha fatto male Questa ci ha fatto male Gli altri li sblocchiamo Prendi a livelli superiore Da livello 16 Un po' il prossimo Gli sprunks Attualmente non abbiamo di questi aiuti 20.000 Dai, ci sono fatti abbastanza male Bello, bello, bello Ok, abbiamo i soldi, raga Facciamo un altro salto per sicurezza Così da non restare proprio senza una lira Sfracelliamoci in maniera bella, pesante Come... Ok Così mi piace Dai, dai, rotala, 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 rotala Vai così Massi Nell'albero, nell'albero, nell'albero No, non ha preso l'albero Va bene, ok Perfetto Allora Adesso, mentre lui continua a rotolare Sì, ci vediamo un bel bagnetto di spiaggia Un po' di sole La crema solare l'abbiamo lasciata a casa, però Che carino il nostro amico Perfetto Allora, change map Yes Andiamo a comprare la mappa nuova, raga Andiamo a comprare la mappa nuova Livello numero 7 E si va avanti Comprato Siamo arrivati senza una lira Che culo Ok Facciamo un salto così Decisi Siamo saliti di quanto? Di tanto? Non lo so, sinceramente Oh, qui c'è il nostro amico che già si è lanciato Se no lo seguiamo al volo Lancio Vediamo Eh sì Di un bel po' siamo saliti Porca miseria Vai Sfracellati bene Ok E la prima l'abbiamo presa bene Dai, sfracellati ancora un po' così di lato Bello Facciata Questa ha fatto male Bella questa Ecco abbiamo preso l'albero Ok Ok Dai Ci siamo fatti male Ci siamo fatti abbastanza male Questo gioco è bello Perché ti viene proprio La violenza Ti sale proprio la violenza 38.000 dollari Oh Oh Non si scherza Non si scherza Allora Facciamo Siamo ancora a livello 10 Raga Facciamo che attiviamo i fireworks I fireworks Sì E le altre Questo Dart 1 Che non so sinceramente cosa sia Però non lo attiviamo subito Vai Vai con i fireworks Vai Vola via ragazzo mio E anche Dart 1 Non so che cosa sia Mamma mia Siamo volati altissimi Raga Siamo volati altissimi Ci facciamo male pesante Ci facciamo male pesante Stavolta raga Se pigliamo la roccia giusta Ci facciamo male Dai 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 Sfracellati bene Sfracellati bene Dammi Soddisfazione Soddisfazione Mi poteva aspettare di meglio No Nell'acqua no Nell'acqua no L'acqua no Abbiamo Dai 37.000 Poteva andare meglio Raga Poteva andare meglio Poteva andare meglio Decisamente meglio Allora qual è l'obiettivo Io cercherò di portare Un episodio A una settimana sì A una settimana no Di questo giochino Proprio quando voglia Di sfogarmi Invece quando la giornata Ti va storta Tu giochi a questo gioco E ti passano Tutti i nervi Praticamente Sì Adesso in questo momento Ci siamo un attimo Bloccati in aria Ecco lui Sembra già un'altra volta Della febbre Di sabato sera Era preciso Era proprio lui Dai una bella facciata E concludiamo in bellezza Ok Apposta così Bello 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 ragazzi mio L'obiettivo Quale ragazzi L'obiettivo è Fare i più punti possibili Dobbiamo andare avanti Nelle mappe Io sono onesto Ho visto i video Di FabiJ E lui Sblocca le altre mappe E si fa tanto male Quale è l'obiettivo ragazzi L'obiettivo è farsi male No scherza L'obiettivo è proprio Cercare di andare avanti Con le mappe Ah questa non è stato bellissima Andare avanti con le mappe E cercare di salire in classifica Perché attualmente Siamo a livello 13 Dai 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 Che lo prendo preciso di faccia Siamo rimbalzati Proprio verso l'alto Cioè proprio sai Quando prendi un masso preciso E No ovviamente non l'ho mai preso Un masso preciso Quindi non ti so dire com'è Prendere un masso preciso Però dai Va bene così Ragazzuoli Purtroppo è successo Un piccolo guaio Ovvero il computer Ha fatto le paranoie Nel senso che ho perso Un pezzo del video In cui andavamo avanti Con qualche altro salto Anche qualcuno molto carino E raggiungiamo insieme Il livello 14 Mentre qui Una signorina molto carina Gabbo Che cazzo Sei una signorina carina E ti chiami Gabbo Chi sei Gabbo Dimmi Dimmi Che cosa sei Non lo so Comunque Noi vogliamo di giù Noi vogliamo di giù Giù da passo E quindi ragazzuoli Ho perso un pezzo di video In cui arrivavamo a questo livello Ora Che dire Bella Questi ci siamo fatti abbastanza male Che dire ragazzuoli Io L'obiettivo è Andare avanti Fare tanti bei soldi Farci male E sfogarci Con questo bel giochino È bello Perché arriviamo tutti spiaggiati Così in maniera schifosa E cercare di andare avanti Anche dove sbloccare Le altre mappe Ora le prossime mappe Sono Il livello 8 È a 2 milioni 2 milioni Sì È 25 Questa di qua Ed è tanto Questa prima di arrivare A 2 milioni Arriviamo quasi A livello 5 Praticamente E si potrebbe anche fare L'ultima mappa L'ultima mappa Il primo livello Si sblocca Un milione Secondo me Il prossimo obiettivo Sarebbe sbloccare Un milione Questa di qua È vedere un attimino Come è composta Come si muove Comunque ragazzuoli Detto questo Io vi ringrazio Per la visione Vi invito a lasciare Like e commenti E niente ragazzi Ci vediamo domani Con un prossimo video Bella raga Ciao Ciao